io sono seccomarco luigi e sono macellaio e commerciante di bestiave mio padre e mia mamma ha sempre fatto gli agricoltori e poi adesso loro sono anziani e io mando avanti cosa posso io abbiamo due macellerie e in più noi facciamo i commercianti come allevamento non ne facciamo quasi l'allevamento è quello dei cavalli più che altro quello dei cavalli sì una volta facciamo anche allevamento di bovini ma adesso un po meno un po meno bovini